Sabato 2 luglio il centro commerciale Carrefour di Pavia ospiterà l'evento Il Giorno del Sorriso. La giornata sarà interamente dedicata alle donne, come tutte le iniziative promosse da Carrefour Pavia quest'anno. L'evento avrà lo scopo di sensibilizzare ulteriormente le donne, soprattutto le più giovani, riguardo il tema della prevenzione del tumore al seno, grazie alla ormai consolidata collaborazione con IAC Italia e la sua presidente Anna De Blasi. Sindaco Massimo De Paoli, il comune vicino all'associazione IAC e al centro commerciale Carrefour per quest'altra iniziativa, bella iniziativa di solidarietà. È un'iniziativa di solidarietà, di svago, divertimento, ma io soprattutto lo sottolineo di prevenzione perché l'opera di Youth Against Cancer, questa associazione, è proprio rivolta a sensibilizzare le donne, giovani in particolare, sulla necessità di uno screening costante per quanto riguarda il seno, perché molte donne giovani sviluppano questo tipo di patologie, però magari non se ne rendono conto, non se ne accorgono e quindi sottovalutano. Questo è il messaggio che noi vogliamo mandare, che questo si faccia in modo leggero, piacevole, attraverso l'intervento di queste attrici, queste donne di cabaret che sono le scemmette, ancora meglio. Credo che renda il messaggio più facile da assimilare. Anna De Blasi, Pavia ancora una volta propone questa bella iniziativa, diciamo, di divertimento e prevenzione. Ebbene sì, perché non solo a marzo si deve fare prevenzione, ma grazie alla collaborazione con il Centro Commerciale Carrefour di Pavia e la dottoressa Cinzia Bogazzi, che è un vulcano di idee, abbiamo questo evento il 2 luglio in galleria con le attrici Le Scemmette direttamente da Zelig. E quindi avremo occasione di divertirci, ma con ironia verranno trasmessi anche messaggi utili alle donne, perché come ha detto lei in conferenza stampa, non devono avere paura di affrontare il tema della malattia. Sì, quello che stiamo cercando di fare noi è di parlare alle donne in ogni modo, giusto Cinzia? Poi Cinzia vi racconterà. Perché la donna purtroppo, come dicevamo, spesso ha paura, quindi il cambiamento che vede nel proprio corpo, nel proprio seno in questo caso, non lo affronta. E allora è meglio avvicinarsi magari in punta di piedi con un sorriso, prendendola per la mano questa donna, facendola sorridere, facendola riflettere sull'importanza di non sottovalutare un minimo cambiamento, ma di farsi controllare e non avere paura ad affrontarlo, perché davvero si è in tanti a fare da protezione attorno a noi donne e a cercare la soluzione migliore per venire fuori da un'eventuale malattia. Veniamo a Cinzia Bogazzi, diceva appunto Anna, un vulcano di idee. Questa volta l'idea è quella di questo spettacolo all'interno del Carrefour. Sì, allora oddio, è una grande responsabilità, un vulcano di idee, nel senso che a me vengono di notte, di giorno, le povere persone che lavorano con me le devono mettere in pratica. No, questa idea delle scemette, io sono amica personale di alcune di loro, quindi da sempre le seguo. Sono amante della loro ironia, ma perché è un'ironia molto intelligente, e quindi nell'anno della donna mi sembrava quale migliore occasione, sette donne, belle, intelligenti, simpatiche, con una carriera meravigliosa, poter venire a dire in modo intelligente, simpatico e divertente, far percerpire alla gente un tema molto forte. Non è nel mio stile essere patetica, quindi non voglio che nessun argomento affrontato sia fatto in modo triste, quindi il sorriso, l'anno del sorriso lo dimostra, doveva essere il filo conduttore di tutta questa iniziativa. Quindi ho voluto loro, proprio perché chi meglio di loro può rappresentare il sorriso. E' già preannunciato per novembre, prima di Natale, tornerà all'albero del sorriso. A novembre torna l'albero del sorriso, con una giornata, se riesco, una settimana, se no sarà solo una giornata dedicata anche allo yoga della risata. Avremo un testimonio all'eccellenza che rappresenterà questa giornata. Ci sarà sì l'accensione dell'albero, che sarà sempre l'albero dell'anno scorso, che rappresenta l'albero del sorriso. Quest'anno io ho voluto una variante, siamo nell'anno della donna, quindi l'ho chiesto fucsia. Non so se riusciremo a realizzarlo fucsia, non è molto il tema col Natale, ma non è l'albero del Natale, è l'albero del sorriso, quindi deve adeguarsi a quello che vogliamo noi. Grazie. Grazie.